Credo che riconosca oggettivamente un merito, ci è voluto un grande impegno da parte di tutto lo studio, io ho la fortuna di lavorare con dei colleghi di studio molto bravi, io purtroppo sono il più vecchio, però comunque devo dire che ricevere questo premio ci fa molto piacere, ci dà soddisfazione. Quanto è importante un riconoscimento che proviene da una commissione tecnica, una commissione di esperti? La commissione credo che sia formata da esperti e anche da operatori, da general cancel, quindi dei capi degli uffici legali delle imprese, quindi credo che già solo questo sia importante per testimoniare l'importanza della valutazione che viene fatta. Come sta andando la serata, con chi è al tavolo? È magnifica, sono al tavolo con i miei colleghi di studio, con altri colleghi, alcuni di penale, altri di amministrativo, sempre piacevole. Come sta andando la serata, con chi è al tavolo con i miei colleghi, alcuni di amministrativo, sempre piacevole.